Ciao bimbaci e bentornati su Itinerari di Pesca. Io sono Nicola e sono un inferiore. In questo canale troverai tutto quello che è il mondo della pesca sportiva non agonistica, semplicemente la pesca sportiva fatta per divertimento e per passione. Insieme a me e ai ragazzi che mi accompagnano in questa avventura viaggerai per l'Italia, per l'Europa e per il mondo alla scoperta di posti sempre nuovi, catture sempre più interessanti e di nuovi spettacolari da visitare. Questo progetto Itinerari di Pesca vive grazie all'aiuto e dal supporto di molti ragazzi che quotidianamente mi danno una mano a gestire e a portare avanti questo canale, sia venendo a pesca con me ma anche lavorando dietro le quinte. Se vuoi aiutarmi anche tu nella crescita di questo canale puoi farlo semplicemente contattandomi tramite le mail commerciali che trovi nella sezione informazioni e magari proporti se sei montare video, se sei far miniature, sei bravo con la scelta dei titoli, io ho sempre bisogno di nuove persone pronte a darmi una mano. Credo molto nella nostra comunità e ho un gran rapporto con molti di voi e spero magari un giorno di conoscere anche te che stai guardando questo video. Detto questo ti lascio alla visione del nostro canale e ti ricordo come sempre il nostro motto Catch and Release! Catch and بت Grazie per la visione!